La provincia di Milano, l'area territoriale che ha un riferimento economico, sociale, urbanistico, infrastrutturale di Milano è un'area che va già molto oltre la provincia di Milano e quindi esiste un sistema di interessi, una rete di integrazione, esiste già. Quello che manca è il governo dell'area metropolitana, una sede e un riferimento che governi l'area metropolitana e io credo che il fatto che sia mancato in questi anni un governo dell'area metropolitana degno di questo governo, un soggetto, un istituzione, un'area metropolitana in grado di governare i processi che hanno quella dimensione territoriale, che non possono essere circoscritti né nel solo comune di Milano né nella prima fascia, io credo che la mancanza di quell'istituzione l'area metropolitana abbia reso più complicato lo sviluppo. Se ci fosse stata un'area metropolitana in questi anni probabilmente quest'area avrebbe avuto uno sviluppo diverso, più armonico, più attesto all'ambiente e probabilmente anche dal punto di vista economico e territoriale più equilibrato e più orientato al futuro. Ora io farò un intervento ragionando sulla metropolitana provincia di Milano, 134 comuni, 3 milioni di abitanti che oggi vivono nella provincia di Milano e qui serve sicuramente un governo mondiale metropolitana senza il quale non si affrontano, ma lo stiamo sperimentando concretamente in questi giorni, non si affrontano i problemi reali che ha prestato. Noi non affrontiamo il problema della difesa dell'ambiente, della lotta all'inquinamento senza un governo che abbia una dimensione metropolitana. È difficile mettere attorno a un tavolo, si è tentato, l'ha fatto il comune di Milano, l'ha fatto bene, l'ha fatto la provincia, si è tentato di mettere tutti i sindaci attorno a un tavolo a discutere su cosa fare, però mettere 134 teste attorno a un tavolo a decidere che cosa fare è di solito complicato, ci vuole una strategia, ci vuole una strategia. Oppure al trasporto pubblico stiamo discutendo in regione la legge sul trasporto pubblico locale e stiamo ragionando su una dimensione su cui i sociali si scondono. Andremo contro un muro, nel senso che c'è un ambito territoriale che è definito dalla provincia di Milano e la provincia di Monza e Brianza. Si fa un ragionamento su quattro lotti diversi e un'autorità di bacino che dovrebbe governare tutto questo, ma che in assenza dell'area metropolitana, lo sappiamo già perché è già successo in passato, si è scontrellata a un punto. Quella autorità di bacino il comune di Milano dirà io sono al centro, devo avere la maggioranza assoluta, lo sta già dicendo, la provincia di Milano dirà come i 133 comuni, gli altri 133 comuni perché devono lasciare la maggioranza al comune di Milano e non riusciamo. Faccio esempi molto e poi penso che cosa significherebbe avere un governo dell'area metropolitana rispetto alla pianificazione, la pianificazione territoriale. Che cosa sarebbe stato e che cosa può essere ancora in questi anni una politica di governo del territorio che per esempio ragiona sull'area dell'alfa di Arese, su altre grandi aree dismesse, dentro una logica economica, sociale, urbana che guarda l'area metropolitana e anche sulla questione della residenza. Ci sono molte cose che possono trovare lì e forse sono solo lì infrastrutture di attivistiche, solo lì, in una dimensione di quel tipo, una soluzione che non penalizza qualcuno per... L'idea dell'area metropolitana è un'idea che dice, lo diceva prima però è giusto, poi ci ritorno. Costruire l'area metropolitana vuol dire costruire una sede di governo che impedisce che il ragionamento purtroppo, io lo dico da milanese, troppo spesso si fa, cioè l'area metropolitana per Milano è l'eccellenza, Milano è, diciamo, le cose funzionali ma di solito problematiche fuori Milano, non può essere questa. Per questo è ancora un governo dell'area. Sapendo che fare il governo dell'area metropolitana vuol dire una rivoluzione, una rivoluzione vera negli assenti. Perché vuol dire, dobbiamo dircela com'è, non c'è più il comune di Milano come lo conosciamo, ma non c'è più neanche il comune di Settio, il comune di Bresco, il comune di Cinisello come lo conosciamo. E non c'è più neanche la regione Lombardia come la conosciamo. Costruire l'area metropolitana in Milano vuol dire una rivoluzione. Questa è la grande opportunità, ma questo è anche la vera ragione e il vero problema. La vera ragione per cui in questi anni l'area metropolitana non si è parte e non è decollata. Perché guardate, si sono sperimentati percorsi diversi in questi anni per costruire l'area metropolitana. Prima si è detto, la regione faccia una legge istitutiva, vediamo le regioni. E la regione Lombardia ha detto, a me non interessa fare l'area metropolitana, non serve, ci sono già io. Sui trasporti, sulle infrastrutture eccetera eccetera, ci sono già io. Colpifero mi faccio portare via le competenze su queste cose dall'area metropolitana milanese. Poi si è detto, facciamo adesione libera. Referendum, i comuni che vogliono, però un'area dipolitana in cui ogni comune decide autonomamente se aderire o aderire vuol dire un'area un po' agrochiera che non credo che risolva la questione. Per questo io penso che le proposte che ci sono in Parlamento e che di fatto dicono, penso soprattutto la nostra, quella che hanno fatto Marina Adamo, Luigi Di Mercati e altri senatori del PD, che dice, legge speciale per istituire l'area metropolitana. Definire quali sono i compiti. Quindi togliere quei compiti lì agli alti livelli istituzionali. stabilire come si fa e come funziona, forse è l'unica strada. Perché sennò trovo difficile, ripeto, la regione non vuole per le sue ragioni, ma anche i comuni, di fronte poi alla eventualità di cedere prezzi di sovranità su alcuni punti, sono restiti e il Comune di Milano forse in questi anni è stato più di altri restiti. Ora, io trovo importante il nuovo corso su questo che Giuliano Pisapia e Daniela hanno avviato. Credo che questo carteggio potestà Pisapia e il fatto di mettersi a lavorare seriamente su un'ipotesi di area metropolitana sia un'opportunità, così come penso che sia un'opportunità che può contribuire a costruire le leggi. Il lavoro che sta facendo Daniela sulle municipalità è un lavoro importante, perché porta sedi di decisione sui problemi concreti più vicino al territorio, ma è anche dire che il Comune di Milano diventa un'altra cosa, perché se si fanno le municipalità il Comune di Milano viene svuotato da una serie di cose, e altre cose verranno prese dalla metropolitana. Quindi non sono questioni semplici. Bisogna cambiare, no? L'area metropolitana si fa così se si cerca di cedere tutti un pezzo di sovranità in nome di un progetto su cui si investe per il futuro di una storia e su cui si fanno delle scelte che si devono condividere e che guardano armonicamente allo sviluppo di tutta l'area metropolitana. Questo credo sia il punto. È chiaro sul trasporto pubblico. Se c'è l'area metropolitana non c'è bisogno dell'autorità di vaccino, diventa l'area metropolitana quella che decide sulle questioni che riguardano il trasporto pubblico. Ed è chiaro che anche qui la Regione dovrà rassegnarsi a perdere sovranità su questo. E bisognerà costruire un'area metropolitana in cui sia chiaro che Milano, la città di Milano, ha grandione. Perché la città di Milano paga un prezzo alto al fatto di essere al centro di quest'area metropolitana dal punto di vista di city users, di inquinamento, di altre cose. Così come dall'altra parte c'è il bisogno di ragionare sul decentramento anche di funzioni nobili. Daniele parlava della questione della cultura. Io penso che questa debba essere la dimensione su cui si ragione. perché se no io francamente trovo difficile non solo fare l'area metropolitana ma se non cambiamo ottica anche di fronte a problemi come quello della gestione del trasporto pubblico, dell'affrontare la questione di inquinamento, non ne usciamo. Perché i campanilismi purtroppo abbiamo sperimentato. Daniele Anzini lo sapete. In questi quindici anni, lo sa anche un altro ex-sendaco di questa zona, i campanilismi hanno pesato molto sulla vicenda. Su questo bisogna capire che o scommettiamo sul futuro di quest'area territoriale oppure scommettiamo sul futuro dei diversi comuni, dei diversi campanili che però credo che da qui al futuro non possano produrre grandi risultati. Quindi bene l'iniziativa del Comune di Milano in questo senso, bene il lavoro che si sono impegnati a fare con l'Estat e Pisapia di mettere al lavoro commissioni per affrontare le singole questioni, però bisogna sapere che dobbiamo fare un passaggio, un salto, dal dire che l'area metropolitana importante ci vuole a dire quali sono stati i problemi in questi anni e cercarli di superarli da loro. Innanzitutto parlare da esponente alla provincia quando è uscito un decreto che mi sento un po' lo yogurt da consumarsi preferibilmente però la fine dell'anno prossimo. Siamo scadenti o scaduti questo poi lo vedremo. ragionando sul fatto che io penso che la scelta può essere che non quella che non è la trattata del governo ma che comunque era già delineata il governo precedente che ha forse una serie di condivisioni parlamentari importanti ha in mente un riassetto del sistema degli enti locali primordiali e secondari che vedono il superamento delle province io penso che a 70 anni da quando si è individuato questa formazione stato e a 40 anni dal suo compimento con la nascita del sistema regionale quant'altro probabilmente un sistema che ammoderni questa situazione superando le province ovviamente il nostro trono perché nate per una serie di motivi condivisibili ma a distanza ormai di 70 anni assolutamente superate dalla storia io penso si debba andare a ragionare come però a mio avviso soltanto ed esclusivamente facendo delle proposte l'ultima proposta in legge è l'ultima io ricordo quella fatta da due grandi personalità del Parlamento Italiano del Benino e Pizzinato che era secondo me assolutamente di un livello importante si è molto simile si è molto simile però Franco Mirabelli sottolinea tutte queste proposte tutti questi desiderati sono rimasti di fatto nella penna del legislatore mai però votati o acquisiti perché vengano realizzati un po' per i motivi che si dicevano prima cioè il creare un livello un livello di coordinamento con scopi e poteri ben definiti perché quando parliamo di problematiche legate all'ambiente poi sappiamo benissimo che l'autorità sanitaria e l'affredditore sono i sindaci puoi fare tutto il percorso di convincimento che vuoi ma se non hai l'autorità di imporre come organo di coordinamento puoi soltanto consigliare invitare stimolare e condividere ma alla fine non hai quel potere che ti veramente ti piace ma domani se non c'è un accordo democratico c'è un accordo d'imperio per loro che poi fanno i sindaci non le obbligazioni io penso che soprattutto nelle aree più vaste e Milania che è una piccola città europea che ha bisogno di crescere non può pensare di crescere soltanto aumentando gli abitanti al proprio interno ma se ha necessità di crescere deve crescere anche per una condivisione che veda anche una un uso del territorio per funzioni importanti per cui ci sono già marcate un loro sviluppo è inutile per esempio obbiare 300 poli specialistici di qualsiasi argomento si tratti quando alcuni territori hanno già questa vocazione per la storia valutato vale la pena lì dentro di muoversi guardate ci sono degli esempi importanti in Europa di aree metropolitane quella che io ricordo con più interesse dirà nel sistema dell'arubo in Germania c'è la grande area di Milano è stata una scommessa che risulta vincere e resistere anche rispetto alla crisi economica soffre meno di altre perché la rete ha tenuto ha tenuto meglio c'è un sistema di governo che vede le municipalità un organismo superiore che è l'area metropolitana la grande area della Grande Lione poi c'è il sistema più ampio del sistema regionale in Belgio è la stessa cosa grandi funzioni dedicate al territorio quindi io penso che gli italiani che sono assolutamente dei geni nel progettare su alcune questioni dovrebbero essere degli intelligenti copiatori provare a vedere che succede e capire che un sistema di arrivi in questo momento deve scudere almeno un paio di cose uno la sovrapposizione delle competenze la seconda lo spettro di riscorsa queste due cose non ce le possiamo permettere quindi se serve una città metropolitana vuol dire che come tutti abbiamo detto al di là della città santa di Bresso però che verrà così tenuta perché mancando lo spirito santo ci viene il Papa apposta mancando lo spirito santo ci viene il Papa apposta però per dire occorre assolutamente che tutte le funzioni attuali abbiano una competenza diminuita rispetto alla necessità di creare questo organismo che abbia però poteri tali da far che da tutto ciò che è di livello sovracomunale ed è molto venga un po' coordinato da questo organismo di governo che però non è soltanto un organismo politico amministrativo ma deve avere la terza fase che è quella decisionale altrimenti tutti devono perdere un pezzo qualcuno lo deve guadagnare quindi d'altronde non può su questa vicenda metterci dentro soltanto competenze scoperte perché provincia di Milano si occupa di rifiuti di cave di sistema di avvicinazione delle atto e quando cioè sono esclusivamente problemi pensate al soltanto sistema degli edifici scolastici superiori quale organismo probabilmente la regione con rischio di avere centinaia e centinaia di edifici scolastici da gestire e ricordiamo che le regioni nascono come organismo legislativo e non come ente attuativo quindi se vuoi devono cambiare un po' il livello poi bisogna guardare se ha pagato di molto fa le leggi fa le sue attuazioni dai buoni dai soldi fa le cose si hanno dato un po' di competenze aggiuntive queste competenze si sono anche allargate notevolmente rispetto alle altre però non andiamo ora a giudicare questa ricetta però è chiaro che occorre c'è l'esigenza quello studio fatto da Polizia di Milano che parla della grande area diciamo di interesse economico sociale di continuità che andava di fatto da Verona a Torino e Genova questa è una affinità molto più vicina per questione di tematiche condivise che di vicinanza chilometrica per esempio con Sondrio che è a 100 km a Milano quando Verona è a 150 ma abbiamo un tessuto socio-economico culturale storico morfologico assolutamente diverso io sono uno di quelli che non difende le cose per una passione legata agli affetti cioè le province in questo momento sono probabilmente un livello da superare vanno modernizzate l'errore che è stato fatto è stato quello di far nascere altre inutili noi abbiamo per esempio come partito dobbiamo fare un'analisi rispetto alla vicenda della provincia di Monza di Trianza che noi abbiamo sposato perché il vento soffiava perché nascesse quella provincia non tutti molti sono stati zitti però io tra quelli ho in maniera molto sommessa detto qualche volta guardate che forse stiamo buttando via dei soldi e la questione non funziona perché avere due capoluoghi di provincia che tra i loro confini geografici dei capoluoghi di provincia ci sono 8 o 6 chilometri cioè un comune e mezzo è una follia pura nell'ottica in cui si ragionava già di area dell'indipolità però su una serie di temi che sono le politiche ambientali le politiche dell'ordinamento e del coordinamento del trasporto pubblico il sistema infrastrutturale locale non a livello nazionale il sistema della formazione scolastica degli edifici scolastici della programmazione anche nell'ottica non solo del mantenimento degli edifici ma della loro organizzazione rispetto all'aggiornamento che facevo prima per quelli che sono già dei distretti produttivi o scientifici già esistenti probabilmente queste competenze non possono essere diluite in una grande prospettiva come quella regionale con 10 milioni abitanti con migliaia di chilometri quadrati con una lontananza dalla necessità di l'attività d'altro quanto questa cosa si può fare esclusivamente se il legislatore fa fare un passo avanti al sistema degli enti dei sistemi di governo e fa fare un passo indietro alle competenze dicevo secondo me il sistema delle province è da superare perché si è inflazionato io ritengo che non si potrà nemmeno pensare che in questo percorso almeno iniziale ci possa essere qualcuno che tenti di difendere il sistema delle province a livello del Parlamento perché sembrerebbe di voler mantenere una casta che guardate io ho visto oggi gli studi i costi della politica riguardo alle province se non mi scappa il numero non mi pare siano di circa 180 milioni di euro per tutto il paese quindi non è quello risparmio d'altronde il testo che era stato varato dal governo precedente che parlava del superamento delle province dando compito alle regioni di registrare entro un certo termine altrimenti entrava in maniera sussidiaria il governo parlava nell'ultimo paracolo diceva purché il nuovo sistema di livello intermedio sovracomunale di area basta non curte più di quello precedente questo praticamente non prevedeva il risparmio quindi se bisogna modernizzare e dare risposte adeguate alle nuove esigenze bisogna però fare un'analisi che parta in qualche media ma secondo me lì dentro bisogna metterci il sistema del livello regionale è giusto che ci siano regioni di 150.000 abitanti o di 300.000 abitanti comprese le province comprese gli 8.800 comuni di questo paese o occorre probabilmente mettere mano in maniera logica ci sono aree densamente abitate con una presenza di strutture e infrastrutture tali da considerare che occorrono tre sistemi di livello ce ne sono altre perché i tre sistemi di livello possono essere utili ma va benissimo l'incorpamento dei comuni va benissimo la presenza della regione ed è sufficiente per avere nulla anche l'inflazione delle città melapolitane è un errore le città melapolitane nascono 5 diventano 9 e poi pare che ognuno per salvare il proprio pezzo gliene aggiunga una quindi non ha molto senso dicevo e pericoludo che è difficile che il Parlamento riesca a modificare questa regione perché in questo momento sembrerete posto difesa di una casta ora bisogna anche fare uno sforzo per capire che la democrazia che vogliamo difendere ha i suoi costi che i costi devono essere corretti e giusti che non ci deve essere esperto deve essere un livello che uno percepisce il giusto corrispondente rispetto all'impegno che dà al servizio che dà al fatto di dover abbandonare una professione o meno quindi occorre anche lì il rispetto della democrazia nel fatto che il bene supremo è quello di un'organizzazione tale che questi costi ritornino in beneficio altrimenti sono degli sprechi dentro qui io penso che qualche mese di osservazione e di studio potrebbe far ragionare sul sito di un sistema che comprenda io penso che il test iniziale di 5 città metropolitane possono essere assolutamente sufficienti rispetto alle esigenze perché alcune altre sono veramente il capoluogo e poco altro la stessa Roma sono una cifra ma la stessa Roma che ha 3 milioni e 500 mila abitanti e la provincia ne ha 4 milioni e 2 capite che lì la città metropolitana è la città e basta Milano che è 1 milione e 300 mila abitanti e la sua soltanto la sua conurbazione il primo secondo anel sono altri 1 milione e 800 mila abitanti probabilmente un senso maggiore ce l'ha se quest'area però viene ulteriormente aumentata riprendendosi il pezzo di Montabriata riprendendosi il pezzo di Lodi riprendendosi una serie di competenze che rendano anche dal punto di vista della PIL rispetto ad una serie di iniziative che altrimenti si moltiplicano perché poi c'è la moltiplicazione dei territori l'iniziativa ognuno promuove il suo territorio e promuovendo il suo territorio alla fine c'è una concorrenza che può essere soltanto grazie grazie un'iniziativa di un'area metropolitana ma adesso siamo arrivati a dunque perciò bisogna camminare su questa strada darci un metodo comportare insieme come bisogna farlo ma andarci con grande decisione ed energia questa è la prima cosa che vi voglio dire e naturalmente per andarci con un stile energia bisogna che ci sia una forte unità di impegno prima di tutto tra le forze alleate quindi comune di Milano comune dell'Inter dove cominciamo a ragionare concretamente sui passaggi che dobbiamo fare per arrivare lì per arrivare dove vogliamo arrivare prima di questo vi voglio dire però una cosa intanto noi non è che partiamo da zero perché ogni volta che si ragiona sulla città metropolitana sembra di partire da zero ma non è così perché esistono e sono state ricordate importanti esperienze di collaborazione tra comuni intercomunali da cui magari erano un po' assente i comuni di Milano ma le esperienze sono state fatte e se si può citare il nome credo che l'aggiunta Penati in provincia abbia fatto delle cose importanti ha fatto un'elaborazione ha fatto vivere alcune esperienze di cui tra l'altro qui sono presenti diversi esponenti che hanno accompagnato questo processo perciò non credo che noi dobbiamo rinnegare un'esperienza politica che aveva già posto questo tema il convegno OXI è stato ricordato le collaborazioni in città di città che aveva seguito Daniela in precedenza i poli che avevamo costruito il dipatti di collaborazione rafforzata sul nord Milano eccetera sono tutte esperienze a cui bisogna ridare un valore e ripartire da lì per andare oltre ovviamente molto oltre ma non bisogna credere che si parta sempre da zero punto primo punto secondo quello che tiene insieme in modo interessante città metropolitana e decentramento è il fatto è un concetto molto semplice che per Milano ha un'importanza fondamentale e che deve guidare anche il processo di costruzione dei nuovi municipi urbani che è il carattere policentrico che bisogna dare alla città di Milano e alla città metropolitana perché quello che non funziona assolutamente è questo azzonamento di Milano fatto a spicchi non funziona perché tiene dentro centro e periferia sono aree troppo grandi funzionava molto meglio il vecchio decentramento quello delle venti zone ma non si potrà ve lo dico subito tornare alle venti zone per mille ragioni che se volete approfondiremo però almeno attestiamoci su un livello intermedio e soprattutto pensiamo a un nuovo disegno diciamo dei municipi urbani che porti la città davvero a vivere in modo policentrico i quartieri devono tornare ad avere dei centri devono tornare ad avere delle loro caratteristiche questo è molto importante ed è molto importante anche per quelle aree di confine dove la città si interfaccia con i comuni che stanno appena fuori che sono le aree più penalizzate sono le aree che hanno più bisogno di intervento più bisogno di ricostruirsi un centro una fisionomia diciamo un'identità se volete una parola che non fosse troppo abusata e una qualità urbana una serie di cose che soltanto diciamo un'idea policentrica di Milano riescono a dare questo è un concetto che mi interessava molto ribadire anche perché è quello che riesce riuscirà poi a fare la saldatura diciamo sulle periferie urbane tra Milano e i comuni confinanti io sono molto d'accordo con una cosa che ha detto Mirabelli cioè che questo nuovo assetto di governo che abbiamo in mente è una rivoluzione cioè è un cambiamento importantissimo lo vediamo sul comune di Milano nel momento in cui abbiamo bisogno di articolarlo in questa maniera ma vale anche naturalmente per il concetto di città metropolitana è una rivoluzione e quindi arrivarci sarà faticoso ma qui bisogna rompere i conservatorismi e approfittare del momento e approfittare di questo momento in cui tutto è in discussione io sono anch'io un po' del parere che senza una legge speciale non ce la farò di oggi questa è la mia convinzione però se decidiamo che la strada è questa bisogna che cominciamo a ragionarci cioè bisogna che tu comuni comuni di Milano comuni dell'Inter i nostri parlamentari cioè tutti quanti ci mettiamo lì e individuiamo il percorso sono anche convinta che questo percorso attraverso la legge speciale debba però coinvolgere che è un po' quello che stavano facendo che stavano facendo pisapia podestà nella riunione che c'era anche Daniela ci siamo trovati tutti di costruirlo anche un pochino con il consenso dei comuni quindi una specie di percorso condiviso dai comuni non una cosa calata dall'alto che gli viene imposta ma che avesse delle ragioni di condivisione io credo che questo percorso che si era iniziato vada mantenuto nello stesso tempo ragioniamo una volta individuato il modello che ci interessa appunto sulla legge speciale questo è l'altro penso un'altra cosa sulla scorta dell'esperienza di città di città io sono stato insieme a Valtucci che è il progettore del Politecnico a Parigi dove c'era un convegno sulle aree metropolitane c'è uno c'è un enorme interesse sull'esperienza milanese ma questo due non è che il tema delle aree metropolitane sia un tema solo milanese o solo italiano è un tema europeo molto sentito in Europa molto sentito Lione Parigi Londra Barcellona la Germania in Germania tutti stanno continuando sia pure con un meccanismo di esperienze diverse a trattarlo questo tema perché è un tema chiave per il governo di aree fortemente urbanizzate allora l'altra cosa che raccomanderei in questo percorso che vogliamo fare è di tenere vivo un collegamento con la rete di esperienze internazionali non perché si debba per forza fare quello che ha fatto gli altri magari i modelli sono diversi sono tanti davvero però è importante l'elaborazione che c'è dietro cioè il perché tutte le grandi città tutte le grandi aree urbane d'Europa si stanno ponendo questo tema si intervano parigi parigi si interrova tantissimo avviate un'esperienza che loro chiamano voto mafia cioè che parte dal basso di collaborazione intercomunale eccetera e hanno fatto progetti molto più ritti di quelli che abbiamo fatto qui naturalmente hanno più soldi tante cose interessanti ma voglio dire condividiamo scambiamoci questa esperienza diamo anche la sensazione che non stiamo parlando di una cosa rarefatta straccia che non interessa a nessuno ma che è un tema centrale di governo delle aree come la nostra e diamo anche trasmettiamo questa sensazione se possibile anche ai cittadini perché il rischio è che poi quando ci si arriva questa operazione non venga capita proprio perché è una rivoluzione proprio perché diciamo di fatto di fatto scioglie il comune di Milano in municipi e attribuisce molte funzioni importanti alla città metropolitana quindi è una cosa che bisogna anche spiegare perché si fa e che senso ha